Due immobili, un'auto, una polizza assicurativa e denaro contante per un valore di oltre 500 mila euro. Questo è quanto ha sequestrato la Guardia di Finanza di Lugo nel Ravennate ad un imprenditore cinese, produttore di divani. Le indagini delle fiamme gialle hanno permesso di arrivare alla conclusione che l'uomo, attraverso un sistema di fatturazioni false, nonostante avesse un fatturato medio di circa 2 milioni e mezzo di euro all'anno, praticamente aveva un'attività inesistente per il fisco. In base ai primi controlli effettuati dalla finanza, l'attività sembrava regolare con i conti in ordine e la produzione di mobili di elevata qualità. Ma dall'approfondimento dei libri contabili sono emerse fatture provenienti da fornitori cinesi e vasori totali, con partita IVA inattiva, ed è emerso dalle indagini che l'imprenditore che opera nel Lugese simulasse il pagamento di fatture attraverso assegni bancari, che poi discuteva personalmente. L'evasione sarebbe stata quantificata in 2,2 milioni di euro e l'imprenditore è indagato per frode fiscale. Nel corso dei mesi dell'indagine il cinese aveva cessato l'attività e si era trasferito in un'altra regione, ma è stato rintracciato dai finanzieri e in esecuzione al provvedimento emesso dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro di parte dei suoi beni.